Ciao a tutti, bentornati su Stars in the City, benvenuti ai nuovi che capitano sempre più spesso su questa pagina e benvenuti a tutti all'oroscopo della settimana. Questa settimana ci occupiamo del periodo dal 7 al 14 giugno, quindi il Sole è ancora nel segno dei gemelli, altri pianeti sono nel segno dei gemelli, quindi l'impronta, l'imprinting mercuriale è molto forte e gli avvenimenti celesti che caratterizzano questa settimana sono due. Il primo è la luna nuova del 10 giugno che avviene nel segno dei gemelli, congiunta al Sole, congiunta al nodo Nord, largamente congiunta al nodo Nord ma comunque congiunta, e congiunta a Mercurio retrogrado. Mercurio sarà retrogrado per tutto il mese di giugno fino al 22. Il 22 tornerà, riprenderà il suo moto, il suo moto diretto sempre nel segno dei gemelli e quindi percorrerà a ritroso i gradi dal 24 al 16 dei gemelli, quindi tutte le persone che hanno dei valori, il sole, la luna, l'ascendente, nella seconda e terza decade dei gemelli, quindi dal grado 6, praticamente prende anche un po' di... alla fine, intorno al 22 giugno, sarà arrivato a intercettare anche la prima decade, quindi diciamo che siamo tutti, tutti, mi ci metto anch'io perché ho dei valori in gemelli, siamo tutti interessati, tutte e tre le decadi dei gemelli sono praticamente interessate da questa retrogradazione che appunto andrà avanti per tutto il mese di giugno, il primo giugno Mercurio era a 24 dei gemelli e il 22 sarà arrivato nel suo moto retrogrado, quindi andando indietro, sarà arrivato al sedicesimo grado dei gemelli e poi riprenderà il moto diretto, quello lo vedremo nelle settimane avvenire. Quando Mercurio è retrogrado ovviamente c'è l'occasione, l'opportunità, visto anche il fortunato trigono che Mercurio forma con Saturno, retrogrado anch'esso, c'è l'opportunità di risolvere molte questioni del passato, ok? Quindi forse non è il momento più adatto per fare in mani progetti per il futuro, ma di rivedere, di andare a rispolverare delle cose, no? Quindi è un momento di... sembra di impasse, sembra un momento in cui tutto è fermo perché non si progredisce, ma in realtà ci sono delle grandissime opportunità per sistemare tutto quello che abbiamo accumulato, tralasciato, trascurato, lasciato in sospeso, che pensavamo di... non so, di aver risolto, invece era stato approssimativamente archiviato, ok? Quindi in realtà è un transito caratterizzato da grandi occasioni. Si sostiene che con Mercurio retrogrado sia meglio non apporre firme, firme definitive, cose importantissime, no? Perché? Perché probabilmente c'è qualcosa che non... attraverso Mercurio retrogrado c'è qualcosa che ci è sfuggita di mano, che non ci è stata rivelata, come se fosse un po' una dissonanza di Giove, no? Perché poi sono le dissonanze di Giove quelle che ci fanno prendere le sviste, che ci fanno incappare in persone che non ce la dicono tutta, no? Quindi in situazioni ambigue. Però solitamente, ragazzi, è consigliabile magari, se non se ne può fare a meno, la firma si mette perché non si possono perdere occasioni importantissime per un Mercurio retrogrado e vuol dire che in quel momento doveva andare così. Però se si può aspettare anche a cambiare gestore, a fare cose del genere, ad ordinare dei mobili, un divano, vedrete che potrebbe essere meglio, potrebbe essere meglio aspettare il 22 giugno, insomma, anche per fare ordini, cose di questo genere. Mercurio è in gemelli, quindi anche il commercio, no? Le acquisti, le compravendite possono essere interessati, diciamo, da questo fenomeno. E il secondo avvenimento importante della settimana è l'ingresso di Marte nel segno del leone. Quindi Marte, l'energia, la forza, ma anche la lotta, la competizione, diventano molto più ruggenti. Marte è stato nel cancro dal 24 aprile all'11 giugno e ovviamente la forza addirittura è stata un po' più capricciosa, no? Un po' anche le reazioni istintive, più emotive, probabilmente ci sono state degli attriti, delle questioni, diciamo, familiari, forse emotive, da risolvere, perché Marte in cancro è quello, è proprio la simbologia di energia, di attrito, anche di lotta, ragazzi, anche di competizione in famiglia. Invece adesso si sposta nel segno del leone che governa di più forse la repubblica, la vita sociale, insomma, l'organizzazione, lo status. È un'energia completamente diversa, ma soprattutto sono le reazioni ad essere diverse. Insomma, è un Marte più guerriero, più aggressivo, più dominante, anche un po' schiacciante, anche un po' arrogante. Quindi dobbiamo prestare attenzione, perché? Perché l'opposizione, già Marte e il leone, è un'energia anche un po' dittatoriale, no? Che non conosce di nieghi, che non permette le seconde battute. Quindi se ce l'abbiamo già nel tema natale, dovremmo essere attenti magari a non essere arroganti. Insomma, potremmo potremmo vedere, come dire, peggiorato, sottolineato, un po' aumentato il nostro lato ombra, la parte un po' più, come dire, un po' più scomoda della personalità. E bisogna prestare attenzione, perché? Perché quest'anno Marte e il leone incontra l'opposizione di Saturno. Quindi tutte le intemperanze, tutte le aggressività, tutti gli eccessi di questo Marte, potrebbero, come dire, trovare una sanzione, trovare una conseguenza, pagare pegno, no? Quindi potrebbero esserci delle conseguenze. E ovviamente ci sono dei segni più intercettati di altri, però per tutti, visto che siamo tutti sotto questo cielo, visto che l'energia è quella, laddove abbiamo una rabbia irrisolta, una cosa, cerchiamo di sempre, no? Quando ci sono queste dissonanze celesti particolari che fanno venire a gala degli attriti che noi abbiamo già dentro, quello che si può fare, consapevoli che noi abbiamo già dentro, delle questioni da risolvere, dei rubinetti emotivi magari da chiudere, iniziare a praticare un atteggiamento zen, meditativo, respiri profondi, tutto quello che spenga il criceto mentale, che ci faccia andare in ipercerebralità, che ci faccia andare in affanno e che passeggiate nella natura, ovviamente, insomma, tutto quello. Ma ragazzi, la respirazione profonda è una cosa che si può fare dovunque, anche senza essere visti. Quindi, insomma, quando vedete che non riuscite a fermarvi, non riuscite a staccare la spina, vi sta partendo la brocca, non riuscite a gestire le emozioni, una ventina di respiri profondi sono un'ottima soluzione, un'ottima, veloce, facile e gratuita soluzione. Fatti normalmente, la mattina e alla sera, sono un booster di energia, di ossigeno, rappresentano un tocca sana che sicuramente registrerete, ok? Quindi questo, quando ci sono le transiti così sfidanti, così tesi, così ricchi di tensione, iniziare a premunirsi è la soluzione migliore. Quindi, atteggiamento zen, cercare di non farsi travolgere dalle emozioni, ok? Non essere schiavi, ma dominarle. Noi dobbiamo diventare i capitani della nostra nave e non possiamo essere una nave alla deriva, no? Quindi le emozioni, le reazioni istintive senza una gestione, un autocontrollo che ovviamente deve essere coltivato perché non si ottiene con lo schioccare delle dita e che va coltivato soprattutto in tempi non sospetti. Cioè, quando non c'è una grande portata emotiva, altrimenti diventa difficile. Ovviamente l'allenamento fa ottenere dei grandissimi risultati e siccome sono le nostre reazioni quelle che determinano poi la sconfitta, la disfatta o meno rispetto a transiti sfidanti, perché il transito sfidante ci pone magari una difficoltà, una situazione, una tensione alla quale noi non sappiamo reagire o reagiamo male, o mandiamo tutto all'aria, o molliamo, o perdiamo un'occasione. Se invece noi abbiamo una gestione, un'osservazione lucida, calma, centrata, delle situazioni, sicuramente riusciremo a gestire, a tenere il re in barca, a limitare il danno, insomma, a uscircene elegantemente. Quindi coltivare la coscienza, coltivare un autocontrollo, un distacco dalle emozioni più basse quotidianamente in occasione di transiti così sfidanti, ritorna molto utile e solitamente in realtà è la soluzione rispetto a grandi questioni. Quindi non facciamo finta, non mettiamoci una maschera di distacco quando dentro magari stiamo provando un disastro, ma coltiviamo il distacco, atteggiamenti zen e meditazioni da fare possibilmente singolarmente e non in gruppo, perché in gruppo, siccome siamo vasi comunicanti nell'aprire la nostra energia, ragazzi, noi non sappiamo a chi la apriamo, alle persone che ci sono con noi, ok, vi sarà successo di andare ad un corso di yoga, a fare delle lezioni di meditazione e a tornare non completamente rasserenati nonostante la pratica e l'insegnante fossero eccezionali. E questo capita proprio perché in quei momenti c'è un'apertura energetica e siccome siamo dei vasi comunicanti, se vicino a noi ci sono delle energie che in quel momento sono in difficoltà, delle persone che emotivamente hanno delle preoccupazioni non risolte, potremmo attingere questo è uno dei motivi per cui non si sconsiglia anche la pratica di meditazioni magari quelle globali, quelle tutte insieme, fatelo nel vostro piccolo, insomma, perché sicuramente c'è una rete di protezione e immaginatevi sempre in una bolla di luce di protezione, ok, quindi conservate, conservate, preservate voi stessi e la vostra energia, perché le energie esistono e agiscono, quindi questa settimana particolarissima, abbiamo particolarissima, intensa, il mese di giugno sarà molto particolare, infatti sto pensando di fare il video del mese di giugno, ci saranno a un certo punto cinque pianeti retrogradi se non erro, quindi molte occasioni del passato, avremo molte occasioni di rivedere il passato e di sistemarlo, passato che ritorna e ragazzi, soprattutto visto che Mercurio e anche Nettuno poi più in là diventeranno retrogradi, Mercurio già lo è, oltre alle situazioni che ritornano, molti di voi avranno notato che se c'erano dei gap comportamentali, degli atteggiamenti sbagliati, dei modi di fare i nostri personali che non funzionano, che non vanno bene, delle reazioni scomposte, insomma qualsiasi cosa, con Mercurio retrogrado potrebbero tornare, vedete che la gente un po' fuori controllo e disordinata, ok Mercurio retrogrado siccome Mercurio è la psiche fa anche questo, cioè ci dà la possibilità facendo ritornare un problema comportamentale, un pensiero, una problematica, facendola tornare, visto che comunque il cielo è eccezionale perché Mercurio è in trigono con Saturno, c'è la possibilità questa volta di affrontarla in maniera diversa e di trovare quella persona quella soluzione, quel metodo che ci fa risolvere definitivamente. Quindi anche i nostri atteggiamenti, non dobbiamo soltanto temere chi ritorna per portarci o dirci chissà cosa, ma è un'ottima occasione per lavorare su noi stessi perché vedrete che sicuramente riemergeranno, riaffioriranno anzi e tensioni, problematiche, reazioni, fobie, ragazzi, qualsiasi cosa, dipendenze, qualsiasi cosa che sia legato alla sfera psicologica. Questo fatemelo sapere nei commenti se sta arrivando, ma sappiate che c'è il trigono di Saturno a Mercurio, quindi siamo facilitati, troveremo la soluzione. Basta cercarla però, perché poi dobbiamo prendere in mano la nostra vita e agire, ok? Cioè, non aspettarci la pappa pronta, ma diventare proattivi e approfittare dei transiti per risolvere qualcosa. Quindi, andiamo a guardare che cosa accade ai transiti segno per segno, quindi andiamo a vedere che cosa accade a tutti i segni zodiacali, ma dopo la sigla. E iniziamo con il segno dell'ariete e dell'ascendente ariete che hanno una settimana che io definirei agrodolce. Perché? Perché comunque ci sono dei pianeti Venere e Marte nel segno del cancro che ci stanno raccontando quanto gli arieti e gli ascendenti ariete si siano dovuti dedicare a delle questioni familiari in alcuni casi poco piacevoli, in altri casi critiche, ma che comunque hanno avuto un recupero, hanno avuto un miglioramento. In alcuni casi non sono state delle questioni diciamo come dire particolarmente preoccupanti o delle delle situazioni particolarmente stressanti, anche se credo che la terza decade dell'ariete in questo momento non è tanto d'accordo con una visione edulcorata dei problemi che si sono verificati in famiglia, però insomma tutto sommato con l'arrivo di Venere dal 2 giugno sembra che le cose, le situazioni anche quelle più critiche si siano sistemate in qualche modo con pace, rapacificazioni, distensioni, amore o soluzioni o una persona che porta aiuto, ok? Quindi c'è stata prima una sorta di tensione, prima è sorto il problema, prima c'è stata la preoccupazione e adesso sembra che insomma si veda la fine. Tutto questo però, insomma, tutta questa energia concentrata nell'ambito familiare, proprio nel settore famiglia, quindi che sia che si tratti di un familiare che magari ha destato l'attenzione o ha richiesto aiuto o abbia avuto dei problemi di salute, sia che si si siano verificati degli eventi che riguardino gli immobili, il paese, la patria, insomma c'è stato qualcosa che ha, come dire, distolto l'attenzione dei nati sotto il segno dell'Ariete, dei nati con l'ascendente Ariete da quelli che sono i loro progetti e quella che è la loro corsa all'obiettivo perché sappiamo che Ariete e l'ascendente Ariete dopo gli anni come dire privativi, dopo gli anni sfidanti caratterizzati da Saturno in Capricorno quindi dal 2018 al 2020 e dopo aver pezzo qualche come dire qualche pezzo dopo aver perso qualche pezzo per strada dal 18 dicembre del 2020 grazie al favore di Saturno e anche di Giove stanno come dire stanno riprendendo vita hanno ripreso vita vitalità forza stanno lavorando ad un progetto ad un progetto probabilmente da fare con qualche amico da fare in squadra stanno anche facendo un grande ripulisti in quello che è il settore delle amicizie oppure loro stessi sono stati messi alla prova e si sono trovati a dover dimostrare se sono veri amici oppure no e quindi comunque c'è un grande lavoro dal punto di vista umano dal punto di vista del settore delle amicizie dell'entourage quindi parliamo anche di team di squadra di classe ecco questo gli arieti che studiano ancora sicuramente stanno vivendo delle vicende molto molto intense per quanto riguarda i compagni di classe nel senso che molti nodi stanno venendo al pettine ci sono delle scremature molto forti magari si stanno dividendo perché prendono degli indirizzi diversi insomma è un anno molto importante dal punto di vista molto importante e molto rivelatore dal punto di vista delle amicizie ecco questo non è per voi ariete ascendente ariete l'anno delle cose per caso ok ritornano amicizie importanti degli amicizie che non hanno più motivo di esistere si si sciolgono però appunto siccome siete molto impegnati in un progetto con gli amici dal punto di vista umano c'è stato questo in queste settimane c'è stato questo gap temporale per cui qualcosa che riguarda o il settore famiglia o il settore immobiliare la casa l'immobile che vi ha come dire risucchiati distolti e tolto un po' di energie rispetto a diciamo a quelli che erano i progetti delle settimane precedenti ma questa settimana quindi nella settimana che va dal 7 al 14 giugno accade qualcosa accade qualcosa di particolare c'è un'inversione di marcia l'energia cambia allora i fenomeni che vi riguardano tra l'altro sono la luna nuova nel segno dei gemelli che si fa nuova il 10 giugno e che per quanto vi riguarda intercetta il terzo settore quindi o riceverete una proposta di trasferimento o arriveranno delle notizie delle notizie che guardate possono cambiare il trend della situazione e come dire possono cambiare la direzione perché questa luna questa luna nuova del 10 che si congiunge al nodo nord quindi quello che poi bisogna fare in questa vita quindi lo come dire lo sensibilizza gli dà molta energia quindi è chiaro che possono verificarsi degli avvenimenti scatenanti che siano destinati nel vostro caso si tratta di notizie di trasferimenti di notizie che stavate aspettando da molto tempo è un aspetto molto importante una luna nuova molto importante per chi lavora nell'insegnamento per chi lavora nella comunicazione per chi studia veramente per chi studia e per chi lavora anche nei trasporti nei trasporti con i mezzi di trasporto insomma qui c'è qualcosa con questa luna nuova o state aspettando delle notizie immaginate chi magari ha fatto un concorso per la scuola o chi ha fatto un concorso e sta aspettando una risposta adesso potrebbe arrivare una risposta che cambia il trend della situazione cambia il trend della situazione e dal quindi il 10 c'è la luna nuova e l'11 giugno finalmente Marte che è il settore dell'azione torna a vostro favore perché entra nel segno del leone quindi i primi a beneficiarne in questa settimana saranno sicuramente i nati in marzo per quanto riguarda Marte quindi vi tornerà la grinta la voglia di fare la voglia di muovervi sarà un momento la seconda parte della settimana quindi dall'11 al 14 avrà un trend completamente diverso avrete proprio delle iniezioni di iniezioni di energia di voglia di fare avrete una ripresa sembrerete dei vulcani erano due anni che non avevate il trigono di Marte dal segno del leone quindi dal 2019 quindi per i nati in marzo e per tutte le persone che hanno l'ascendente ai primissimi gradi dell'ariete dall'11 dall'11 al 14 quindi la seconda metà della settimana sarà entusiasmante rimane là una leggerissima quadratura della Venere nel segno del cancro però ragazzi Marte è molto più forte per voi perché Marte è il vostro il vostro pianeta governatore voi risentite molto dei transiti favorevoli o sfavorevoli di Marte e molto meno di un transito come Venere che insomma non è un pianeta molto affine quindi lascia un po' il tempo leggermente il tempo che trova a meno che non abbiate nel tema natale una Venere dominante perché insomma ci sono anche degli arieti che magari nascono con il sole congiunto a Venere per dire o una Venere all'ascendente quindi ci sono delle eccezioni che confermano la regola però in linea di massima noi possiamo dire che il trend positivo sta tornando perché come erano due anni che non avevate la quadratura di Marte dal cancro che a voi dà abbastanza fastidio perché è veramente un Marte che vi insolentisce perché vi vi mette in situazioni melenze malinconiche estruggenti problemi di famiglia voi siete esuberanza pura quindi diciamo che il peggio è finito no? perché Marte in cancro non vi è tanto simpatico e invece comincia al meglio Marte sarà nel segno del leone dall'11 dall'11 giugno al 28 luglio quindi insomma c'è tempo adesso è interessata alla prima decade e quindi c'è questo trend perché mi fa pensare che arrivi intorno al 10 con la luna nuova in gemelli nel vostro terzo settore delle notizie e il giorno dopo con l'ingresso di Marte in il leone il cambiamento diventi subito esecutivo questo se accadrà questo insomma dovete dirmelo voi quindi vi aspetto nei commenti su Instagram su Facebook perché c'è veramente un'inversione di marcia non escludo questa è un'anticipazione probabilmente nelle prossime settimane forse ne parleremo approfonditamente nel video sul cielo del mese che sto preparando non escludo che proprio il riferimento alla squadra agli amici a quell'entourage che magari voi state valutando da inizio anno dalle vacanze di Natale o in merito a delle tensioni con delle amicizie che si sono che sono sorte insomma in questi primi mesi del 2021 non escludo che l'ingresso di Marte possa generare qualche distacco non dico definitivo ma un congelamento della situazione o anche come dire un momento molto molto brusco molto teso per quanto riguarda le amicizie chi deve scegliere tra una relazione sentimentale e gli amici perché a volte si creano queste idiosincrasie per cui la comitiva degli amici cerca di mettersi in mezzo non è d'accordo non ritiene opportune le scelte della riete le scelte sentimentali della riete perché a volte vengono fatte impulsivamente potrebbero non di rado capita che magari le amicizie si mettano in mezzo soprattutto con un transito di Saturno nell'undicesimo settore opposto al quinto adesso con l'ingresso di Marte il leone trigono al vostro sole o al vostro ascendente nel vostro quinto settore è molto probabile che ritorni anche una passione una passione un amore potrebbe essere un amore del passato o può essere un colpo di fulmine qualcosa di improvviso e questa cosa che dovrebbe rendere piede subito potrebbe allontanarvi dalle amicizie o dal progetto al quale stavate lavorando è tutto in forze non prendete decisioni perché comunque c'è mercurio retrogrado quindi fondamentalmente è molto probabile che ritornino queste negli ambiti che ho accennato ritornino situazioni del passato possono tornare situazioni anche di un passato molto lontano per esempio il famoso 2002 dove c'era il nodo nord in gemelli visto che adesso c'è la luna nuova ma osserviamo mettiamoci l'astrologia va verificata effettivamente non bisogna crederle pedissequamente ok dipende anche da quello che noi immettiamo nella nella nostra vita reale altrimenti i transiti non hanno l'energia per trasformare per per far esplodere per anche per far finire ok quindi dipende anche molto da noi cercate se potete di non prendere decisioni definitive di non mettere firme definitive fino al 22 giugno ma ne parleremo la settimana successiva quindi in questa settimana con mercurio retrogrado più che altro siamo spettatori vediamo che cosa accade spettatori distaccati e insomma ne parliamo insieme nei commenti quindi vi aspetto su instagram un grande bocca al lupo perché questa è un'altra settimana di transiti epocali con la luna nuova sul nodo nord e insomma salutiamo gli amici dell'ariete dell'ascendente ariete e passiamo al segno del toro il segno del toro a sua volta toro ascendente toro insomma vive un momento come dire paludoso cioè sta camminando sulle uova il toro sta camminando sulle uova perché sta mettendo toro ascendente toro perché stanno mettendo in discussione molte cose molte cose del passato molti capisaldi molte certezze molti punti fermi e e finora avevano l'energia l'appoggio insomma come dire degli amici avevano le forze a favore perché c'è un marte favorevole che in questa settimana sostiene ancora i nati nella terza decada e tutti quelli che hanno l'ascendente alla fine del toro proprio negli ultimi dal ventitresimo grado in poi dal dall'undici poveri toro dall'undici giugno con l'ingresso di marte nel segno del leone la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente ulteriormente ovviamente dal dall'undici al quattordici quindi per quanto riguarda questa settimana i primi a risentirne saranno i nati in aprile quindi tutte quelle persone che hanno il sole nella prima decada del toro e tutte quelle persone che hanno anche l'ascendente ai primissimi gradi del toro quindi cercando di come dire cerchiamo di di analizzare di fare ordine in questo cielo che per il toro è un po' più complicato anche se fortunatamente la venere pianeta governatore del toro è a favore perché è nell'amico segno del cancro quindi qualsiasi cosa accada troveremo sempre qualcuno c'è l'amore a proteggerci l'amore di qualcuno di una persona di sì di una persona o di più persone magari di famiglia che ci proteggono e ci sostengono in questi tempi di grande cambiamento quindi questa è la cosa principale il primo fenomeno che riguarda il segno del toro quindi in questo clima tutto sommato di affetto di amore e di sostegno e anche di guarigione per qualche persona di famiglia è la luna nuova del 10 che si fa nuova al diciannovesimo grado dei gemelli nel secondo settore del toro è una luna nuova che ovviamente la luna nuova lo dice il nome stesso segna un nuovo trend un nuovo inizio un cambio di rotta e in questo caso congiungendosi al nodo norte quindi a quello che bisogna fare in questa vita scatena avvenimenti come dire destinici destinati riporta a galla anche contatti situazioni persone ma anche modus operandi pensieri vecchi modi di pensare perché è congiunto a mercurio retrogrado quindi ed è nel secondo settore che è quello legato all'economia quindi settore molto caro al toro ma anche all'indipendenza emotiva ed affettiva cosa può accadere o il toro riesce ad affrancarsi da un vincolo da un vincolo da qualcosa che lo appesantisce può trattarsi di di un mutuo ragazzi può trattarsi di un impegno economico molto gravoso che all'improvviso grazie alla luna nuova trigono a saturno in qualche modo si scioglie questo potrebbe non accadere a tutti ma tutte quelle persone che hanno seminato bene con mercurio retrogrado con il nodo nord hanno dei crediti nei confronti del karma hanno dei crediti nei confronti del destino e quindi magari hanno potrebbero ricevere un aiuto quindi o c'è un affrancarsi dal punto di vista economico oppure c'è al contrario ma comunque in maniera sempre positiva la possibilità di avere di impegnarsi economicamente in vista di un progetto a lunga scadenza cioè è come se il toro adesso con questa luna nuova trigono a saturno potesse prendere degli impegni avesse le risorse necessarie per prendere degli impegni che magari in passato non non poteva prendere quindi magari con questa luna nuova si sblocca una situazione di stasi economica che dà il là ad un cambiamento se non dovesse trattarsi di questioni economiche potrebbero tornare delle vecchie dei vecchi modi di fare del passato potrebbero tornare visto che Mercurio è la forma mentis delle vecchie paure magari non delle vecchie paure che non rendono stabile e non rendono sicuro e indipendente il toro o finalmente arriva si presenta l'opportunità di affrontare delle vecchie forme pensiero dei vecchi modi di relazionarsi delle vecchie diciamo delle cose che magari possono essere sorte in gioventù nell'adolescenza o anche degli studi interrotti all'epoca comunque c'è qualcosa che riguarda la cultura la forma mentis la preparazione la salute mentale l'indipendenza l'equilibrio del toro che potrebbe risolversi in alcuni casi c'è il toro proattivo il toro meno pigro il toro che si muove ad ottave meno basse perché insomma quando vedete il toro inamovibile pigro che non cambia mai che vuole sempre rimanere legato al passato alla tradizione non va incontro all'innovazione non cambia mai idea beh lì sicuramente abbiamo un'ottava bassa del segno del toro che è un segno che deve essere stabile a spalle larghe per reggere situazioni impegnative però fa di quella stabilità una sorta di inamovibilità quando vedete quello è un'ottava bassa quindi nel caso di ottave basse potrebbe accadere che per spingere il toro a risolvere qualcosa dentro di sé a scomodarsi letteralmente a scomodarsi e trovare un terapeuta trovare un coach affrontare un problema l'unica l'unico modo che ha l'universo è quello di fargli ripresentare un malessere un malessere che a un certo punto deve essere guardato accettato fatta una presa di coscienza e cercato chi lo può risolvere quindi o accade una cosa del genere o il toro proattivo inizia da solo senza che la questione si complichi ulteriormente inizia a decidere di mettere in mano la situazione e siccome la fortuna aiuta gli audaci insomma e gli uomini di buona volontà visti i transiti che ci sono la persona giusta l'aiuto giusto la soluzione sembrano essere dietro l'angolo quindi se dovesse tornarvi un malessere un'insoddisfazione qualcosa dal passato che non va bene quelle sono cose che tornano non per tormentarvi la vita come spesso il toro pensa perché ama ama la sua zona di comfort e insomma non ama scomodarsi quelle cose tornano per essere risolte e adesso la buona notizia è che ci sono anche i presupposti perché ciò avvenga in maniera facile e naturale quindi può trattarsi o di questioni psicologiche o di questioni economiche che se insomma unite ad un giusto impegno trovano trovano la svolta quindi questo questo è un trend decisamente positivo che riceve il trigono di Saturno e quindi c'è proprio dal medio cielo e quindi c'è proprio un avanzamento come dire c'è proprio una crescita il toro pur dovendo cedere la poltrona nel senso che deve scomodarsi un attimo sta crescendo quindi quando si impegna è destinato ad avere le sue soddisfazioni il trend invece dell'11 dell'11 giugno con Marte nel leone che coinvolge la fine della terza casa e la quarta quindi il settore famiglia il settore spostamenti amici va un po' a turbare la prima decade va a turbare un po' l'ambiente familiare quindi possono iniziare non lo so ragazzi dei lavori di ristrutturazione visto che Marte sarà opposto a Saturno c'è un componente della famiglia che che magari parte che magari si assenta un attimo ci sono dei dei transiti molto particolari però fatemelo sapere voi che cosa accade con io credo che si tratti di lavori in corso lavori in corso che dovrebbero partire che forse incontrando l'opposizione di Saturno potrebbero avere uno stop fatemelo sapere nei commenti se è questa l'eventualità che si che si paventa ok perché probabilmente con con Mercurio anche retrogrado ci sarà da attendere un po' e forse dal 22 giugno queste questa opposizione Marte-Saturno potrebbe come dire allentare un po' la presa quindi insomma ne possiamo riparlare quindi un po' di maretta un po' di tensioni nel nel settore famiglia però si trova la soluzione comunque perché Marte riceve il sestile dei pianeti in gemelli quindi insomma che fanno un bel punto di talete tra Marte e Saturno quindi insomma in qualche modo la soluzione si trova se è una soluzione economica se è una soluzione come dire di presa di coscienza di di prendersi sulle spalle una responsabilità questo fatemelo sapere voi ok quindi settimana intensa settimana intensa impegnativa ma che ha gli sbocchi per essere risolta quindi vi aspetto aspetto i vostri feedback e passiamo al segno dei gemelli e dell'ascendente gemelli che sono grandi protagonisti grandi protagonisti di questa luna nuova una luna nuova del 10 giugno che si congiunge al nono nord quindi immaginate già i gemelli e l'ascendente gemelli hanno il nodo nord sulla testa quindi stanno accadendo cose destiniche stanno rincontrando persone del passato stanno risolvendo cose che si trascinavano dietro da vent'anni e anche più perché insomma il gemelli per affrontare le cose non è molto insomma non si prestano in piena di primaverili amano svolazzare e divertirsi quindi immaginate questi gemelli ascendente gemelli col nodo nord sulla testa quindi avvenimenti destinici mercurio retrogrado tutto quello voi immaginate tutto quello che un gemelli ha trascurato che ha temuto subodorato tralasciato che per non curanza non ha curato adesso potrebbe tornarli sul vassoio d'argento per dire ecco queste sono le tue come dire le tue responsabilità questo è quello che hai fatto insomma è un momento di grande presa di coscienza io vi ricordo che mercurio retrogrado oltre al fatto che magari consiglia di non prendere di non prendere accordi definitivi per la vita di non firmare contratti che insomma che non siano oltre il gestore telefonico e io ho avuto problemi anche con quello sotto mercurio retrogrado mercurio retrogrado può riportare degli atteggiamenti sbagliati che avevamo in passato e che perché insomma mercurio è la forma mentis e che pensavamo di aver risolto o che non si presentavano più da un po' di tempo ovviamente il gemelli che è un soggetto psichico cioè ha le sue i punti di forza i punti di debolezza nel sistema nervoso nella mente è un cerebrale è un comunicativo proprio il mentale nel gemelli è molto importante tanto è vero che una delle ottave basse dei gemelli è il nervosismo il nervosismo è proprio un eccesso di cerebralità tendono ad accusare fatica proprio sul sistema nervoso patiscono la tensione ok quindi per i gemelli questo mercurio retrogrado potrebbe portare delle cose proprio dal punto di vista psicologico da guardare queste non tornano per finire se torna un problema un problema un'abitudine uno stress una depressione un pensiero qualcosa qualcuno magari da lontano 2002 magari anche da da dai recenti transiti di saturno in sagittario 2015 2017 non è importante non è importante quello che è importante che capiate cari gemelli e ascendente gemelli è che le cose non tornano per stressarvi ulteriormente le cose tornano per essere viste per essere affrontate una volta per sempre in modo che capiate che insomma tutto quello che cercate da cui cercate di fuggire voi che siete abilissimi nel cambiare discorso nel sviare le conversazioni scomode nello sparire di leguarvi con una scusa quando le cose si mettono si mettono male insomma così facendo non fate altro che ingrandire un karma che vi insegue che vi insegue come un gomitolo di lana che più più voi vi allontanate più ingrandisce no si infittisce si arricchisce di nuovi giri quindi fermatevi guardate prendetevi le vostre responsabilità e approfittate del fatto che tutto sta in baradan quindi nodo nord mercurio retrogrado il sole e anche la luna nuova avvengano con il trigono di saturno e lì tutti a scrivermi ma saturno è retrogrado e d'accordo saturno è retrogrado e quando saturno innanzitutto c'è sempre un trigono di saturno quando saturno è retrogrado è solo un po' più tosto è solo un po' più esigente e un gemelli un ascendente gemelli mi diranno hai detto niente ok quindi è come dire ma non è ingiusto ok saturno non è ingiusto saturno è giustissimo torna per insegnarci qualcosa è un maestro che quando è retrogrado è leggermente più esigente ma perché perché magari alla prima passata abbiamo saltato la prova abbiamo una prova due tre questa è l'ennesima possibilità che ci viene data se noi fossimo liggi al dovere probabilmente saturno retrogrado nei suoi passaggi non farebbe nulla ok quindi c'è sempre il trigono di saturno quindi abbiamo qualcuno qualcosa una legge un'istituzione un organo una persona più grande un maestro un coach che ci aiuta e ci fa capire le cose per bene questa luna nuova quindi nel nostro sul sole e sull'ascendente dei gemelli indica un nuovo trend forse una finalmente una presa di coscienza di responsabilità un'assunzione di responsabilità una sorta di maturazione ma soprattutto quello che è alla base di tutto questo qual è la comprensione perché insomma il gemelli a volte è un po' uno che corre un po' più veloce della sapienza anche se la sapienza li insegue sono bravissime a schivarla quindi questa luna nuova potrebbe indicare proprio un nuovo trend di atteggiamento di consapevolezza se queste consapevolezze queste crescite queste maturazioni ci sono già state con la luna nuova potrebbe esserci proprio un trend di qualcosa che accade di notizie che arrivano ragazzi trasferimenti cambio di studi comunicazioni cambio di immagine cambio di status l'ascendente per esempio l'ascendente gemelli è lo status chi decide di sposarsi chi si laurea chi chi si fidanza chi viene assunto al lavoro non lo so chi diventa genitore comunque c'è una novità c'è una novità c'è una crescita relativa alla vostra persona e forse si tratta di di qualcosa probabilmente anche potrebbe essere anche qualcosa di lavorativo risposte da concorsi da promozioni che attendevate ed è qualcosa che probabilmente aspettavate da tempo ok quindi tutti quei gemelli e ascendente gemelli che stanno aspettando delle risposte delle notizie beh allora è molto probabile che questa luna nuova e questo mercurio retrogrado e questo nodo nord se quelle cose che voi speravate sono nel vostro destino arriveranno in men che non si dica ok un ottimo momento per l'amore per quanto riguarda i gemelli vi sentite più più solidi più forti nelle vostre emozioni e nei vostri sentimenti e dall'11 dall'11 giugno si prevede la programmazione di uno spostamento di un trasferimento di un viaggetto di un viaggetto breve veloce può essere per ragioni di lavoro può essere per per ragioni di svago però non viaggiavate da un po' e questo questo marte nel terzo settore questo marte il leone può permettervi finalmente di prendere una boccata d'aria se non state progettando un viaggetto questo marte in terza casa può indicare anche una macchina nuova quindi il nuovo acquisto l'acquisto di un nuovo mezzo di trasporto e anche delle un momento molto impegnativo magari per chi insegna per chi studia per chi si sta laureando perché è un momento molto forte di grande impegno ma anche di aspetti molto positivi per quanto riguarda le comunicazioni gli studi e come dicevo già prima riguardo all'ascendente dei concorsi quindi il momento in cui le notizie un momento di grandi notizie ragazzi di grandi notizie di grandi crescite sarei veramente avete anche giove dal 21 diventerà retrogrado ma al momento avete giove al medio cielo quindi qui possono esserci dei trasferimenti che portano a delle promozioni c'è il raggiungimento di un obiettivo è un momento molto vivace e sicuramente il 2021 ma soprattutto questi mesi qui rappresentano una pietra miliare nelle vicende insomma nelle vostre vicende del destino quindi insomma fatemelo sapere su Instagram fatemelo sapere nei commenti su Facebook sarei molto curiosa di sapere quante cose belle stanno accadendo ai gemelli e ascendente gemelli e passiamo al segno del cancro cancro ed ascendente cancro che hanno Marte e Venere nel segno Marte dal 24 aprile che ha scombussolato un po' le persone ha scombussolato un po' i rapporti ha però dato in molti casi molta grinta al cancro e all'ascendente cancro che sono riusciti finalmente a scollarsi dalle spalle delle situazioni scomode delle rotture di scatole delle persone che non non erano più funzionali ok ma molto disfunzionali quindi c'è stato un momento di liberazione di lotta anche di caos Marte porta anche quello dal 2 giugno le cose stanno cambiando dal 2 giugno vi sentite più in pace con il mondo più belli più calmi qualcuno vi ama qualcuno vi aiuta qualcuno vi vi sta rendendo più affascinanti vi sta aiutando a prendersi cura di voi quindi diciamo che il trend anche di questa settimana è positivo è positivo c'è tanta voglia di dedicarvi a voi stessi momento molto dolce anche molto di coccole anche per ritemprarvi e anche per riprendervi dalle fatiche del mese di maggio nel mese di maggio e della fine di aprile ovviamente al momento risentono dell'ingresso di venere nel segno del cancro tutte le persone tutti nati in giugno e tutte le persone che hanno l'ascendente nelle prime nei primi 10 gradi del segno del cancro e questa voglia di come dire di coccole di riprendersi di prendersi cura di sé di non lo so di dedicarsi alla propria persona vi sta spingendo a fare degli investimenti degli investimenti che potrebbero riguardare la famiglia la casa l'immobile ma anche voi stessi proprio delle spese degli investimenti per quanto riguarda la vostra forma fisica questo accadrà dall'11 giugno quando Marte entrerà nel vostro secondo settore quindi insomma la seconda parte della settimana dall'11 al 14 inizia a segnare un trend in cui le finanze e anche l'impegno come dire l'impegno delle proprie risorse per questa finalità cominciano a registrare come dire un'impennata un'impennata di energia di spese di questioni di questo di questo genere siete animati da una forte spinta al cambiamento la luna nuova del 10 giugno si fa nuova nel vostro dodicesimo settore che è l'inconscio insomma l'ascendente cancro è sempre molto dolce anche il cancro sono molto dolci sono molto affettuosi ma in realtà covano dei desideri di leggerezza di disimpegno a volte anche la maturità di un adolescente cioè non con un dodicesimo settore nel segno dei gemelli spesso c'è la maturità di un adolescente cioè non prendersi le responsabilità come come i ragazzini ok una luna nuova nel vostro dodicesimo settore congiunta al nodo nord congiunta a mercurio retrogrado vi sta facendo prendere coscienza di tutta una serie di questioni inconsce che probabilmente erano già emerse tra tra marzo e aprile ok con il transito di Marte nel dodicesimo settore e adesso probabilmente con questa luna nuova eh ragazzi o sta emergendo qualcosa che ripeto vi sta facendo venire voglia di essere affrontata e di farvi fare degli investimenti o economici o per quanto riguarda le vostre risorse però c'è un trend c'è un nuovo trend c'è un momento di svolta anche dal punto di vista psicologico quindi più che far succedere forse proprio avvenimenti fisici quindi in vostro caso non c'è la macchina nuova non c'è il viaggio ma forse non c'è la partenza anche se con un Marte alle ultime battute all'ascendente insomma qualche azione qualche azione audace insomma di partenza può esserci ma il trend di questa settimana è intimistico e soprattutto psicologico ok voi state state ribollendo state vi state analizzando vi state osservando e c'è tutta una vita interiore anche onirica potreste ricordare cose del passato flash avvenimenti del passato che magari avevate dimenticato questo è un momento di di grande introspezione no se dovessero se dovesse riemergere quel nervosismo che spesso riuscite a celare con quel bel faccino ma che comunque vi anima sappiate che le cose non tornano con mercurio retrogrado nel dodicesimo settore può riaffiorare qualche atteggiamento qualche dipendenza qualche qualche cosa qualche blocco psicologico o psicofisico o psico emotivo no comunque legato alla nostra interiorità e al nostro inconscio ma anche alla nostra vita spirituale che non avevamo ben affrontato le cose non tornano per darci fastidio ma tornano per essere affrontate questa luna nuova è molto interessante anche perché potrebbe segnare un nuovo trend per quanto riguarda la spiritualità ok quindi farvi capire che oltre magari al materialismo sapete il cancro è molto legato al soddisfacimento dei bisogni materiali no dei bisogni concreti potrebbe esserci anche una svolta verso l'interiorità la spiritualità l'introspezione sempre con leggerezza sempre con leggerezza ma a momento di crescita potevano sapere nei commenti insomma quindi è una settimana molto molto impegnativa sia per cancro che per l'ascendente cancro io vi aspetto nei commenti e passiamo all'ascendente leone e al sole in leone che stanno per iniziare a ruggire in maniera determinata in maniera molto forte come non accadeva da sono dal 2019 quando c'è stato Marte in leone e quindi iniziamo ad analizzare il cielo del leone dell'ascendente leone che come stavo dicendo adesso finalmente ritornano a ruggire Marte ritorna nel settore nel segno del leone dopo due anni si scontra con Saturno quindi qui il primo consiglio che mi sento di dare al leone ascendente leone è quello di ruggire un pelino meno perché questa volta se ci sarà un eccesso di esuberanza pagheremo pegno si pagheranno le conseguenze insomma potremmo ricevere come dire uno stop uno stand by un alt ok insomma che ci può arrivare dalle dalle situazioni più disparate ma insomma vediamo di analizzare il trend di tutta la la settimana abbiamo la venere la venere e Marte che dal dal 7 all'11 sono ancora nel segno del cancro quindi l'inconscio è un po' fumantino è un po' in subbuglio c'è insoddisfazione leone ascendente leone stanno borbottando come delle ogni tanto trovano qualcosa o qualcuno con cui borbottare con cui farsi sentire con cui insomma come dire esprimere un malumore però un malumore che ancora non trova uno sfogo un'indicazione una direzione così sembra una cosa un po' un po' malinconica un po' insoddisfatta qualcosa sembra un accenno di frustrazione ripeto sono dei borbottii sono dei malcontenti che però non trovano la direzione c'è anche diciamo che c'è anche voglia di amore quindi c'è un'oscillazione fra il borbottio e la voglia di fare bene fra la voglia di litigare e di distruggere e la voglia di fare bene dall'11 questo borbottio questa insoddisfazione questa frustrazione che non trovano una direzione diventeranno più concreti più manifesti quindi leone ascendente leone riusciranno come dire a direzionare a direzionare questa energia questa forza quindi se al momento no se al momento se prima dell'11 c'è un'insoddisfazione generale a un certo punto dall'11 in poi prenderà una direzione probabilmente è complice diciamo di questa direzione presa anche la luna nuova del 10 la luna nuova del 10 del 10 giugno congiunta al sole congiunta al nodo nord congiunta a mercurio retrogrado nell'undicesimo settore dell'ascendente leone e del leone sta dettando un nuovo trend alle amicizie alle frequentazioni e ai progetti ai progetti non da fare da soli no a dei progetti sì personali che leone ascendente leone però hanno intenzione di di portare avanti insieme a qualcuno possono essere dei progetti legati ai pianeti mercuriali potrebbero essere quindi comunicazione eh comunicazione scritti libri pubblicazioni studi ricerche tutto quello che è appannaggio di di mercurio in gemelli ok e potrebbero essere rispolverati dei progetti che veramente risalivano all'anteguerra veramente al 2002 come stanno tornando amicizie frequentazioni eh con briccole insomma legate veramente agli anni o dell'adolescenza o veramente al 2002 quindi c'è un grande fervento fermento la luna nuova del 10 segna un trend un cambio di trend una svolta sia nei progetti sia nelle persone che devono collaborare quindi sia nella direzione del progetto sia riguardo alle persone che stanno collaborando che stanno aiutando leone e l'ascendente leone la direzione diciamo la svolta dovrebbe essere positiva dovrebbe essere positiva perché perché nonostante mercurio sia retrogrado nodo nord stesso è retrogrado comunque c'è sempre un trigono importante con saturno saturno dalla settima quindi si prendono accordi solidi stabili saldi si possono prendere come dire delle direzioni importanti delle collaborazioni che sembrano destinate carmiche di un certo spessore non certo dettate dal caso qui è la sorte che vi sta guidando fino al 22 il consiglio è di non definire completamente quello che come dire quello che accade ok nel senso di non apporre firme di non mettere proprio il nero su bianco definitivamente perché potrebbero esserci a causa mercurio retrogrado dei ripensamenti dei come dire dei cambi di direzione delle delle aggiustatine al al tiro sappiate che fino al 22 con mercurio retrogrado il lavoro di rielaborazione di riesumazione di vecchie intenzioni di vecchi progetti di vecchie parti insomma di vecchie idee non è finito ok però la luna nuova del 10 darà un indirizzo indirizzo molto molto interessante l'undici forte delle nuove idee delle nuove direzioni delle nuove notizie delle nuove persone annesse con grazie alla luna nuova che fa effetto anche nei giorni successivi dall'undici insomma si può si può iniziare a passare all'azione ovviamente risentiranno del transito di marte dell'entrata dell'ingresso di marte nel leone tutti nati in luglio e tutte le persone che hanno l'ascendente leone ai primissimi gradi insomma nei primi 10 gradi del segno ok saranno sicuramente i più i più pronti ad agire i più pronti a dare a dare una svolta per gli altri dobbiamo aspettare le settimane successive questa volta ecco il punto cruciale qual è con marte sul sole e sull'ascendente si diventerà molto propositivi molto molto attivi anche dove dove non c'è un grande lavoro e un autocontrollo sulla persona dove non c'è una crescita interiore si può essere anche un po' guerra un po' guerra fondai arroganti belligeranti cioè marte e leone non è proprio lo standard della democrazia ok quindi si può si può scendere tranquillamente nelle ottave basse cercate soprattutto chi ha anche marte e leone nel tema natale magari all'ascendente insomma comunque tutti voi leone ascendente leone cercate di osservarvi e di rendervi conto del momento in cui state esagerando nella volontà di imporre il vostro dominio nella volontà di di comandare insomma marte e leone vi rende un po' invasori un po' invadenti un po' oltre che aggressivi no? anche un po' arroganti state attenti perché questa volta quest'anno non accadeva dal 1992 marte e leone incontra si anzi no si scontra con saturno in acquario retrogrado quindi si potrebbero se esagerate si potrebbero rompere collaborazioni contratti di lavoro associazioni e relazioni quindi sicuramente i pianeti in gemelli e anche la lua nuova in gemelli si pongono da fortunatissimo punto di talete quindi io direi che fino a giugno in oltrato fino a fine giugno siamo fortunati perché ci sono i pianeti in gemelli che si mettono in mezzo a fare da da punto di talete quindi riusciranno a smorzare anche a smistare l'energia quando trova un blocco però io vi consiglio cari leone ascendente leone di non eccedere di non eccedere nei rapporti interpersonali di non eccedere nel totalitarismo nell'invadenza nel dominio negli out out non è il momento ok è il momento di lavorare su se stessi di prendersi le proprie responsabilità di non dare ordini agli altri e di cercare di brillare di convogliare tutte le energie così in un progetto in un'intenzione che vi faccia brillare vi consenta di brillare e quindi insomma come dire chiudete battenti all'esterno dimenticatevi se potete degli altri non usateli non pretendete non chiedete insistentemente ok quindi morigeratezza tutta quell'energia che percepite usatela per voi impegnatela per voi nei vostri obiettivi nel vostro state nel vostro e insomma si passerà indenni da questa opposizione che non si verificava da 30 anni circa da 29 di Marte contro Saturno che cosa accadrà fatemelo sapere nei commenti perché gli esseri inclinano ma l'uomo determina quindi insomma io vi auguro come dicevo all'inizio del video che voi coltiviate che tutti noi con questa opposizione Marte-Saturno coltiviamo i respiri profondi un atteggiamento zen il distacco da insomma da ire funeste e da atteggiamenti disfunzionali e cerchiamo di farlo prima che inizi il transito perché il dominio di se stessi non è una cosa che si ottiene con lo schiuccare delle dita ma con l'allenamento come tutte le cose quindi con presenza e con respirazione osservazione e distacco correggetevi correggetevi perché altrimenti qualcuno lo farà per voi io vi aspetto su Instagram insomma vi aspetto aspetto i vostri feedback di questa settimana che dall'11 giugno diventa impegnativa vi faccio un grande in bocca al lupo vi auguro di avere il dominio di voi stessi e di far fruttare tutta questa energia nella maniera migliore per voi e passiamo al segno della vergine e dell'ascendente vergine allora settimana come dire tesa settimana un po' tesa settimana un po' disordinata settimana un po' caotica si sa che che la vergine ha vergine ascendente vergine amano avere una routine poter controllare le cose poter mettere tutto a posto vivere in un certo ordine e insomma già dal 14 maggio con il giove opposto all'ascendente quindi un giove in settima casa un giove sul discendente questo vale soprattutto per chi è nato in agosto e per chi ha l'ascendente nei primissimi gradi della vergine un giove nei paraggi del discendente ha portato già un po' di disordine però un po' di disordine molto dolce nel senso che sono arrivate nuove relazioni è arrivato qualcuno che forse vi ha vi ha fatto perdere quella quel metodo quella anche quella freddezza quella quell'atteggiamento pignolo critico certosino e adesso in questo momento molti di voi complice il trigono di venere prima di marte poi di venere insomma si sono sono invaliate delle emozioni dei sentimenti degli eventi dell'amore quindi insomma già un po' la bussola l'avete persa e state vivendo delle delle atmosfere dolcissime dolcissime e molto appassionate ma la luna nuova il scongiunta al sole congiunta al nodo nord e congiunta mercurio retrogrado nel vostro decimo settore fanno sì che arrivino delle notizie delle proposte qualcosa che stavate aspettando da tempo lavorativamente parlando legato ai vostri obiettivi alle vostre mire che poi insomma spesso sono nel settore della comunicazione dell'insegnamento dei viaggi delle agenzie di viaggi dei tutto quello PR influencer social no voi siete degli animali sociali per quanto lavorativamente parlando e qui potrebbe arrivare qualcosa che magari stavate aspettando da tempo una risposta una notizia una chiamata la vittoria di un concorso una proposta ragazzi qualsiasi cosa legata agli ambiti mercuriali e che però forse viene a scombinare e a disturbare e a ridestare da quell'oblio dei sensi che state passando da qualche settimana perché se in questo momento siete completamente immersi in queste questioni sentimentali molti presi da da un nuovo amore da una nuova situazione del tutto nuova beh ragazzi con una chiamata di luna nuova sul mercurio retrogrado del decimo settore è probabile che mentre siete immersi in queste atmosfere qualcuno vi chiami e mi dica sai che devi partire sai che per te c'è una destinazione sai che per te c'è questo nuovo lavoro che magari o ti allontana o comunque ti assorbe tantissimo perché potrebbe essere il coronamento di un sogno ti assorbe tantissimo e ti allontana da queste situazioni chi vincerà chi vincerà allora il consiglio delle stelle è quello di seguire il lavoro è quello di seguire il lavoro innanzitutto perché mercurio retrogrado trigona saturno e congiunto al nodo nord dice che potrebbero arrivare delle chiamate delle realizzazioni personali e professionali nell'ambito della comunicazione dell'insegnamento a cui ma anche della vendita del commercio ragazzi avevo dimenticato di nominare quella che è forse la simbologia per antonomasia di presa dai tempi moderni dai social avevo dimenticato che la vendita e il commercio per i pianeti in gemelli sono strepitosi quindi il consiglio è di seguire il lavoro perché sta per arrivare una chiamata che sembra essere destinata che sembra essere potenzialmente il coronamento di un sogno di una svolta lavorativa che aspettavate veramente da molto tempo chi ha l'età perché ciò avvenga forse riceverà chiamate promozioni realizzazioni di sogni sepolti nel 2002 cose a cui aveva dovuto rinunciare insomma nei primi anni del 2000 quindi è una svolta epocale e anche perché per quanto riguarda le relazioni un transito di giove per quanto si è iniziato col trigono di marte o col trigono di venere è qualcosa che potrebbe rivelarsi temporaneo ok quando giove passa in un settore porta qualcosa se non è sorretto da pianeti insomma più duraturi potrebbe lasciare il tempo che trova cioè potrebbe fare proprio l'effetto cometa ora c'è urano c'è urano a a formare un interessante se stile con giove del motivo per cui io prima vi ho detto che probabilmente le relazioni questi sentimenti nuovi che state vivendo sono rappresentati da una novità ok perché è stata portata ad urano però i movimenti epici sembrano riguardare il lavoro quindi insomma vediamo quali di queste storie rimarranno non truncate niente mantenete nell'essere vediamo dall'altra parte quanta intenzione c'è e anche quanto voi riuscite a provare dei sentimenti verso fine mese giove già tornerà retrogrado marte l'undici esce dal segno del cancro che vi ha portato grazie al trigono con giove anche questo momento di grande passione e passa nel segno del del leone vi renderà un po' più insofferenti un po' più insofferenti un po' più forse gelosi quindi io il consiglio ma anche delle stelle anche per quanto riguarda gli aspetti di marte è di puntare su le svolte lavorative la situazione sentimentale che presto potrebbe fare delle marce indietro ma anche no va osservata osservata va osservato il suo potenziale e visto insomma quanto è destinata a crescere ok non rinunciate a qualcosa di lavoro per queste situazioni sentimentali appena sorte quindi un grandissimo in bocca al lupo fatemelo sapere nei commenti o vi aspetto su instagram per sapere che cosa sta accadendo alla vergine ascendente vergine che ha delle svolte lavorative epocali e passiamo al segno della bilancia che insomma è ben messo assolutamente ben messo allora bilancia ariete e capricorno sono stati nelle settimane precedenti e anche in quest'ultima travolti dalla dissonanza di marte e anche di venere dal segno del cancro questo vuol dire che ariete bilancia e capricorno sono stati probabilmente richiamati da attenzionati da questioni familiari che hanno richiesto la loro presenza e la loro dedizione che sia un familiare che sia una questione immobiliare sicuramente il settore famiglia il settore familiari parenti insomma vi ha sta caratterizzando forse anche scombussolato i vostri progetti la vostra vita il vostro trantran l'undici il dieci avete la luna nuova dal segno dei gemelli quindi intrigono il sole intrigono il nodo nord intrigono col vostro sole o ascendente bilancia mercurio anche se il retrogrado è intrigono saturno è intrigono marte dall'undici diventa favorevole quindi io mi sento di dirvi che il peggio è passato dal dieci dal dieci sicuramente dal dieci giugno inizierà un nuovo trend di vita ci sarà un cambiamento probabilmente conseguenziale anche alle novità che ci sono state nell'ambito nell'ambito familiare e potrebbe iniziare una nuova svolta c'è chi potrebbe riprendere in mano gli studi c'è chi va lontano c'è chi decide di allontanarsi dal settore famiglia c'è chi decide di riprendere in mano gli studi e fare fare qualcosa di nuovo qualcosa che regali nuove competenze e c'è chi decide di prendere consapevolezza dei propri limiti personali e di superarli quindi inizia una fase in cui non subite più ma inizia una fase di crescita ok quindi dal dieci giugno ragazzi dal dieci giugno mentre dal 24 aprile al dieci giugno avete dovuto o procedere con il freno a mano tirato o avete avuto non poche preoccupazioni o vi siete spesi tantissimo per qualcuno adesso iniziano inizia un periodo di nuove di nuove consapevolezze quindi questa luna nuova porta a un nuovo trend vi ripeto una nuova decisione una partenza un viaggio un allontanamento un superamento dei limiti personali anche un ampliamento della coscienza ok marte l'undici entrando nel nel segno del leone porterà un periodo sicuramente più favorevole nel quale vi dovrete spendere molto per gli altri dovrete organizzare fare qualcosa per gli altri o lavorare ad un progetto insieme ad altre persone ma nelle quali voi siete leader voi siete il coordinatore ok e questo questa quindi la seconda parte della settimana dal dall'undici al quattordici vedrà proprio uno spostamento uno switch dell'energia e dovrete dovrete organizzare qualcosa organizzare qualcosa di di nuovo questo avrete l'energia a favore arriverà qualcuno che vi aiuta mentre nelle settimane precedenti o comunque fino all'undici con Marte Dissonante forse avete dovuto fare tutto da soli o comunque vi siete dovuti spendere e stancare oltremodo io insomma vi chiedo di raccontarvi nei commenti che cosa insomma che cosa è potuto accadere avete trovato sicuramente l'aiuto di qualcuno al lavoro si sono sembra che tutti si siano dimostrati comprensivi nei vostri confronti adesso vi arriva proprio una forza diversa quindi io direi che dal dieci giugno per voi bilancia e ascendente bilancia il peggio è passato Marte non tornava a disturbarvi da due anni e sicuramente in alcuni casi ha lasciato il segno ok io vi aspetto nei commenti insomma aspetto che che voi mi diate riscontro proprio di questo cambio di energia dal dieci giugno con la luna nuova quindi io vi do un grandissimo in bocca al lupo un grandissimo abbraccio so che queste settimane non sono state semplici per tutti e insomma sappiate che adesso il trend sarà decisamente migliore ok quindi vi aspetto nei commenti e passiamo al segno dello scorpione che fino all'undici segno dello scorpione e dell'ascendente scorpione che fino all'undici giugno come dire insomma tutto sommato se la passa bene è vero che la seconda decade insomma anche i nati in ottobre risentono ancora dell'opposizione di urano e della quadratura di saturno però quello che dobbiamo dire è che ci sono stati anche dei pianeti veloci che si sono messi in mezzo in mezzo positivamente a smistare a smarcare un po' l'energia dissonante e sono Marte poi Giove e poi Venere che insomma hanno aiutato tantissimo prima la prima decade che quella è nata in ottobre tutte le persone che hanno lo scorpione nei primi dieci gradi del che hanno l'ascendente nei primi dieci gradi dello scorpione sono stati aiutati tantissimo ma adesso Marte e lo farà fino all'undici giugno sta dando grande grinta e grande energia a tutti i nati della terza decade e tutte le persone dello scorpione di tutte le persone che hanno l'ascendente scorpione alla fine quindi nella terza decade quindi dal ventesimo grado in poi vi state rivelando molto propositive state superando dei limiti personali probabilmente state organizzando un viaggio o state studiando molto state lavorando molto su voi stessi quindi il momento è molto impegnativo adesso soprattutto per i nati dal 10 al 20 novembre per chi è l'ascendente dal ventesimo grado dello scorpione in poi loro sono i più impegnati quelli più desiderosi di andare lontano quelli molto molto ambiziosi mentre la prima decade insomma sta godendo di scenari sentimentali dolcissimi è nato un nuovo amore per chi non è diventato genitore per chi non è diventata mamma o papà o per chi non sta decidendo non sta lavorando a questo progetto importantissimo la novità se non è un figlio è quello che insomma genera poi questa esperienza è l'amore dal 24 aprile per voi soprattutto scorpioni della prima decada ascendenti dello scorpione nella prima decada c'è stata una novità una novità sentimentale qualcosa qualcuno che ha iniziato a farvi ribattere il cuore come a farvi sentire vivi all'inizio sembra essere stato uno scambio molto piacevole ma molto basato sull'attrazione fisica sulla passione no su insomma su delle note intense ad alta intensità su una grande attrazione fisica e però poi dopo alcune settimane dopo due o tre settimane con l'arrivo di Giove questa cosa sta evolvendo sta evolvendo laddove fosse possibile forse è diventata più ufficiale più manifesta quindi ha fatto degli upgrade dei passi avanti questa questa relazione e adesso insomma con l'arrivo con l'arrivo addirittura il 2 giugno di Venere e insomma ci sono degli scorpioni degli ascendenti scorpioni che stanno toccando il cielo con un dito stanno toccando il cielo con un dito io aspetto che voi insomma mi diate conferma mi diate conferma nei commenti su Instagram di questo momento magico che state che state vivendo ok cosa accade che con la luna nuova con la luna nuova in gemelli sul nodo nord sul mercurio retrogrado sul sole tutto nell'ottavo settore che è quello dell'eros oltre che quello dell'eredità quindi potrebbe presentarsi la risoluzione di una questione legata ad eredità a beni ereditati che si trascina da molto tempo potrebbe accadere questo parallelamente al momento di insomma di grande dolcezza e di grande amore ma essendo l'ottava casa quella della rinascita e dell'eros potrebbe esserci veramente con questa luna nuova nell'ottavo settore una svolta quindi insomma un punto questa luna nuova potrebbe segnare veramente la vostra rinascita grazie a questa relazione sentimentale quindi una rinascita psicologica molto probabilmente no come se riusciate finalmente come se riusciste finalmente a fare qualcosa a recuperare una situazione un atteggiamento che magari avevate perso molto tempo fa un atteggiamento probabilmente non so quanto sia possibile recuperare un amante o una conoscenza magari persa nel 2002 però potreste riavere la verba adolescenziale che avevate allora cioè nel 2002 qui c'è veramente il potenziale per rivivere un brio una leggerezza un senso di libertà che vi apparteneva da giovani da più giovani da adolescenti insomma veramente risalente al ventennio scorso quindi questo amore potrebbe portare ad una rinascita potrebbero accadere anche risolversi svoltare anche delle situazioni parallelamente legate a delle eredità e per i veri scorpioni proprio per gli scorpionazzi che una ne fanno e cento ne pensano in realtà mentre già si paventa questo amore che vivete da un mese un mese e mezzo forse meno magari già si ripresentano nuove tentazioni e nuove trasgressioni magari chiarimenti con degli ex magari si ripresenta una persona che ritorna da lontano insomma è una settimana che sembra essere trafficata quindi intorno ai giorni della luna nuova intorno al 10 di giugno potrebbero esserci delle svolte e cosa accade se davvero nonostante un sentimento preesistente magari sorto poche settimane fa se davvero la luna nuova è nell'ottavo settore vi riporta anche qualcuno che ritorna dal passato l'ingresso si crea un caos e l'ingresso di Marte il giorno dopo quindi il giorno 11 nel segno del leone può iniziare a complicare improvvisamente e a creare gelosie tensioni sospetti lotte rivalità anche abbastanza impegnative impetuose cambiando immediatamente o comunque repentinamente un trend una situazione delle atmosfere che erano fino a poche ore prima idilliache quindi questo fatemelo sapere nei commenti cercate di fare ordine sapendo che qualcosa potrebbe essere scoperto sapendo che possono saltare degli altarini state attenti ok state attenti un'altra cosa che potrebbe accadere però con l'ingresso di Marte il leone è un periodo in cui dobbiate lasciare insomma le atmosfere sentimentali per dedicarvi al lavoro al raggiungimento di un obiettivo a qualcosa di ambizioso probabilmente una carica temporanea ad un periodo in cui forse sostituito un superiore c'è un Marte al medio cielo opposto a Saturno in quarta che tra l'altro vi toglie molto tempo alla famiglia nonostante ci sia Saturno in quarta quindi nonostante le stelle dicano che ci sono delle cose importanti delle decisioni importanti da prendere in famiglia questo temporaneo ingresso di Marte nel leone sul vostro medio cielo potrebbe portare delle novità lavorative che insomma vi assorbono completamente quindi l'11 l'11 giugno c'è un cambio di trend della situazione che al momento era molto bella molto rilassante molto appassionata molto ovattata insomma qui si passa un po' io non dico sul sentiero di guerra quello poi dipende da voi che siete creature di Marte ma con un Marte dissonante al vostro sole al vostro ascendente insomma qui inizia forse qualche guerra qualche competizione lavorativa questo fatemelo sapere nei commenti io vi consiglio di non eccedere cercate di mantenere un equilibrio cercate assolutamente di mantenere un equilibrio e di come dire di attuare di portare nella vostra realtà quelle nuove consapevolezze quelle nuove prese di coscienza che questi pianeti retrogradi in gemelli nel vostro ottavo settore comunque vi stanno regalando perché riflettendoci un mercurio retrogrado che indica proprio la psiche congiunto al nodo nord nell'ottavo settore indica anche con una luna nuova e con un sole indica probabilmente che state prendendo anche coscienza di alcune cose di alcune eredità comportamentali e psicologiche che avete continuato come dire a perpetrare ereditate in famiglia forse adesso con i transiti che ci sono con questa luna nuova prendete coscienza che è ora di spezzare alcune catene di cambiare alcuni atteggiamenti di non perpetrare di non portare avanti delle abitudini familiari che non sono che sono disfunzionali che non servono più a nessuno ok quindi questa novità psicologica questa crescita psicologica questa nuova consapevolezza questa maturazione che vi arriva anche dal trigono dei pianeti in gemelli con saturno in quarta casa cercate di attuarla cercate di attuarla di metterla sul campo e di non farvi magari ritravolgere da vecchi schemi quindi coltivate l'atteggiamento zen di cui si parlava all'inizio all'inizio del non eccedete non siete dittatori non siete tirannici osservate l'atteggiamento zen ascoltate l'inizio del video l'introduzione al cielo insomma io vi faccio un grosso in bocca al lupo perché qui ci sono grandi novità fatemi sapere nei commenti fatemi sapere su instagram che cosa accade e passiamo al segno del sagittario insomma che al momento si trova un po' nel caos allora parliamo di sagittario e ascendente sagittario allora dopo la luna piena che ha fatto venire a galla delle situazioni delle intenzioni dei modi di fare la luna piena soprattutto per quanto riguarda i nati di novembre per tutte le persone che hanno l'ascendente ai primissimi gradi del sagittario quindi dopo gli avvenimenti della luna piena del 28 maggio con la luna nuova in gemelli congiunta al nodo nord in gemelli congiunta a mercurio retrogrado in gemelli e al sole in gemelli opposti all'ascendente sagittario e al sole sagittario molti sagittario stanno sono nel caos stanno andando stanno perdendo i punti di riferimento o stanno scoprendo che non ne avevano poi così tanti perché ci sono cose che stanno saltando e andando a gambe all'aria con una certa facilità quindi tutto quello che il loro settore relazioni contratti insomma tutto quello che riguarda il noi sta saltando per il sagittario e il sagittario sta cercando di mantenere lo status quo ma non ci riesce perché quando fuori quando l'esterno ci lascia da soli c'è una motivazione dobbiamo stare con noi stessi non cercare gli appigli esterni perché è ora di guardarci dentro di guardare non quello che diciamo ma anche quello che facciamo soprattutto quello che facciamo perché noi siamo quello che facciamo tanto più che anche nelle comunicazioni quindi riducete all'osso le comunicazioni e osservatevi osservatevi molto siate ascetici siate distaccati accorti no e anche spartani in tutto quello che fate perché perché con mercurio opposto retrogrado state veramente perdendo la bussola e anche quello che dite a volte può essere oltre a quello che pensate a volte può essere oggetto di malintesi con mercurio retrogrado allora mercurio è sempre la psiche la comunicazione la forma mentis e le notizie con mercurio retrogrado soprattutto nel segno dei gemelli ma comunque sempre quello che può tornare sono vecchie forme pensiero vecchi atteggiamenti vecchi modi di fare di pensare che pensavamo risolti accantonati vecchie problematiche che pensavamo di aver risolto che invece se tornano ci fanno vedere che quella situazione quel modo di fare così a posto poi non era i problemi non tornano per farvi diventare ancora più nervosi e scalpitanti di quanto non siate i problemi tornano per essere visti quindi per guardarvi dentro ok soprattutto in questo caso sembra dal punto di vista comunicativo e relazionale perché tutti questi pianeti sono nel vostro settimo settore quindi è dovete lavorare tra l'io e il noi quindi sull'io e il noi sulla vostra individualità e anche la coppia ok e insomma come con rispetto con la calma no con con la calma cercando di non andare lontano ma se c'è qualcuno che ha bisogno della vostra presenza di rimanere vi ricordo sempre che avete il trigono di saturno sia al sole all'ascendente sagittario che alla settima case a questi pianeti in gemelli quindi c'è tutta la come dire c'è tutta la la volontà la responsabilità l'opportunità di dare una svolta alle relazioni ai contratti a certi modi di fare ok ma come prendendosi delle responsabilità avete saturno nel settimo settore quindi state imparando a dare il giusto peso alle parole quelle che date che emettete voi e quelle che vi vengono dette ok non non fate due pesi e due misure il sagittario spesso tende ad assolversi tende ad assolversi molto ad avere una un'idea molto buonaria della propria della propria persona ok e in questo caso con saturno in terza casa è bene stare attenti a quello che si dice ok è bene stare attenti a quello che si dice a dove si va le direzioni che si prendono le stelle vi chiedono di essere più posati più riflessivi più più cauti più anche più responsabili cioè vi chiedono stabilità ed equilibrio non cercate di risolvere più che altro delle questioni passate e non di impegnarvi a prendere delle decisioni avventate o firmare dei contratti in maniera avventata fino al 22 perché con mercurio retrogrado e con tutto il caos che vi si è creato insomma potreste prendere delle cantonate e poi avere dei problemi da cui non avete difficoltà a tirarvi fuori dall'11 dall'11 giugno marte finalmente arriva a favore perché finalmente ritorna nel segno del leone che per voi è un grande amico dopo due anni quindi soprattutto in questa settimana dall'11 al 14 i nati in novembre tutte le persone che hanno l'ascendente nei primissimi gradi nei primi dieci gradi del del sagittario avranno una grande grinta una grande forza e anche un un aiuto anche un aiuto a superare i propri limiti a riprendere in mano la propria vita a trovare una direzione anche a partire qui ci sono anche delle partenze o degli studi da da fare insomma qui c'è un momento molto interessante ok dopo il caos inizia l'energia l'energia caotica di marte in cancro che non non vi fa particolari aspetti se non quello di cui inconscio ma che comunque vi ha disorientati perché è acqua che spegne il vostro fuoco che quindi ha portato probabilmente dei problemi anche delle problematiche anche nell'ambiente familiare adesso l'energia del segno del leone finalmente nel nono settore che è proprio quel vostro vi riconsente di riallontanarvi di andare dove volete di iniziare a ripensare i viaggi di respirare aria e di ricostituire la vostra persona però dedicatevi a queste cose dopo esservi messi in discussione approfittate di questi giorni particolari con tutti questi pianeti in gemelli per crescere dentro per mettervi un po' in discussione per fare un passo avanti allora sì che Marte non a casa diventerà come dire un amico un amico che vi porterà lontano e vi darà grandi soddisfazioni ok quindi è il momento di fermarsi a riflettere fatemi sapere ascendente sagittario e sagittario come stanno andando le cose io vi aspetto su instagram so che la settimana è caotica perché ho già letto dei messaggi ma dipende da voi da quanto siete posati da quanto peso date alle parole da quanto siate persone di parola questo è importante quindi prudenza e immaturità e tutto andrà bene dall'undici il trend ridiventa particolarmente positivo e passiamo al segno del capricorno e ascendente capricorno che come dire i cui rappresentanti stanno attraversando un periodo molto intenso molto intenso e anche scombussolante insomma si può dire ci sono molti ascendente capricorno e anche dei capricorno che hanno insomma che hanno avuto degli attriti molto forti sia sul posto di lavoro nel senso proprio di di contratti contratti che non sono stati rinnovati contratti a tempo indeterminato che sono stati interrotti ma anche le relazioni interpersonali insomma nel mese di maggio sono state messe a dura prova insomma il capricorno è stato è stato chiamato in causa è stato attaccato attaccato magari dalle persone di famiglia è stato terribilmente scomodato Marte in cancro nel vostro settimo settore insomma non si verificava dal 2019 no? C'è da dire insomma la buona fortuna è che rispetto alla prima tardissima primavera insomma se non sbaglio giugno luglio del 2019 adesso Marte in cancro trova un cielo un po' più benevolo all'epoca si scontrò duramente con Saturno e Plutone in capricorno e quindi insomma la tarda primavera inizio estate del 2019 per i capricorno deve essere stata veramente insomma dire intensa probabilmente lacerante lacerante forse è il termine più più indicato adesso Marte ritorna in cancro dopo due anni perché tanto impiega Marte a fare il giro dello zodiaco e ritornare nel punto per esempio di opposizione però però troviamo il trigono di Urano vabbè c'era già ma Urano nei primi gradi invece adesso protegge tutta la seconda decada e la fine della anche la fine della prima quindi troviamo dei punti di Talete che nel frattempo si sono disseminati nel cielo che rendono più accettabile che hanno reso più accettabile questo transito di Marte nel settimo settore perché perché ci sono stati degli aiuti perché l'energia non è stata poi così bloccante perché comunque è confluita in qualcosa di costruttivo non è stato un transito assolutamente distruttivo e la buona notizia è che nella settimana che stiamo analizzando tra dal 7 al 14 di giugno Marte lascia finalmente il segno del cancro entra nel segno del leone quindi formando un aspetto neutro con gli amici che hanno l'ascendente capricorno o sono del segno del capricorno quello che possiamo dire è che dal 7 all'11 gli unici che insomma gli unici rappresentanti del segno che vengono ancora interessati da questa dissonanza quindi da questa disarmonia sono tutte le persone degli ultimi della terza decade quindi degli ultimi giorni del capricorno di gennaio quindi tutti nati dal 12 13 dal 12 13 gennaio in poi e tutte le persone che hanno l'ascendente alla fine del capricorno per queste persone è ancora in essere una tutta una serie di tensioni in ambito matrimoniale contrattuale se ci sono qualcuno ha iniziato delle cause qualcuno ha ricevuto delle denunce e insomma il settore matrimoniale legale contrattuale è sicuramente attenzionato è stato sicuramente attenzionato mancano pochi giorni e l'11 marte passerà fortunatamente nel segno del leone che forma un aspetto neutro con gli amici del capricorno facciamo un passo indietro al 10 la buona notizia facciamone due di passi indietro la buona notizia è che anche se in segno opposto nel settimo settore sta transitando venere che è entrata nel cancro il 2 giugno cosa significa che tutto quello che ha distrutto o comunque insomma allogorato marte il transito di marte in maggio venere adesso probabilmente lo guarisce quindi in alcuni casi si risana tutto si ritorna alla pace si ritorna alla distensione o forse cosa ancora più probabile con questo passaggio di venere in cancro si trovano si trova un modo conciliante ed amabile e pacifico o comunque più pacifico del precedente di salutarsi no quindi di conciliarsi definitivamente alcune relazioni del segno del capricorno o ascendente capricorno che nell'ultimo mese e mezzo sono state fortemente messe in discussione al punto da essere finite improvvisamente o non tanto improvvisamente saranno rimpiazzate da una terza persona che arriva a prendere amabilmente il posto di chi è stato come dire salutato quindi fatemelo sapere nei commenti su instagram che cosa sta accadendo se si stanno verificando le cose che le stelle mi raccontano sicuramente ci sono novità per quanto riguarda i figli e dei nuovi amori e dei nuovi amori ma qualcosa di grosso accadrà l'anno prossimo questo è uno spoiler che non dovevo dire probabilmente ma facendo un passo indietro quindi prima dell'11 giugno giorno in cui Marte si toglie esce dall'aspetto di dissonanza giorno prima c'è il 10 giugno c'è la luna nuova una luna nuova in gemelli nel vostro sesto settore che è il settore o della vita quotidiana quindi c'è qualcosa che cambia o della salute se avete avuto dei problemi polmonari se state facendo delle cure qui c'è un nuovo trend una novità perché la luna nuova comunque se state aspettando delle risposte per questioni di salute o se state aspettando delle risposte per riorganizzare l'assetto lavorativo l'assetto domestico allora sappiate che questa è una nuova del 10 insomma porterà delle novità quindi novità o nell'assetto domestico o nell'assetto lavorativo o nelle questioni di salute visto che il nodo nord mercurio retrogrado il sole portano tutti la luna nuova formano un trigono con con saturno dal vostro nel vostro secondo settore si presume che le novità portate da mercurio retrogrado e dalla luna nuova siano tutto sommato positive ci sia una soluzione se c'era un problema insomma trovano un ordine trovano un ordine e una una collocazione una definizione una una soluzione quindi insomma settimana di svolta per quello che riguarda la vostra vita quotidiana che sia il lavoro che sia la salute che sia a casa insomma nell'ordine domestico e un ordine positivo si viene a creare un ordine positivo Marte si toglie da insomma dalle castagne da una situazione dissonante quindi possiamo dire che per Capricorno ascendente Capricorno questa settimana volge positivamente al termine dal 10 in poi sicuramente cambia il trend sarete molto più soddisfatti molto più acquietati soprattutto dopo gli stress le esuberanze mal controllate della fine maggio accompagnate dalla luna piena in sagittario nel vostro dodicesimo settore che vi ha fatto rivenire quella ribellione quella volta di partire per veramente per l'Amazzonia e non e non tornare più quindi insomma settimana che inizia a sistemarsi positivamente assolutamente positivamente io vi aspetto nei commenti fatemi sapere quali sono le novità che porterà la luna nuova insomma in questo riordino degli assetti lavorativi ed economici un grande in bocca al lupo per Capricorno e ascendente Capricorno e passiamo all'acquario allora acquario ascendente acquario ragazzi per fortuna che c'è la luna nuova per fortuna che c'è la luna nuova per fortuna che ci sono i pianeti in gemelli quindi luna nuova del 10 ma già 7 l'8 il 9 già adesso nella settimana precedente ci sono ci sono i pianeti in gemelli il sole il nodo nord anche mercurio retrogrado meno male che c'è mercurio retrogrado perché perché andando indietro mercurio sosterà molto più tempo nei gemelli finché c'è Marte in leone opposto all'acquario e a Saturno in acquario è bene che ci siano dei pianeti per esempio in gemelli che fungono da punto di talete cioè quei pianeti che si mettono in mezzo a una dissonanza importante la stemperano perché perché fanno defluire l'energia in un altro settore il vostro settore è il settore 5 il quinto cioè il settore nel quale viene convogliata l'opposizione l'energia intercettata dall'opposizione di Marte e Leone dall'11 per tutto il mese di giugno contro Saturno sarà il quinto settore che sta ospitando tutti questi pianeti in gemelli alcuni anche in moto retrogrado quindi qual è questo settore intercettatissimo che vi insomma che segna una svolta il quinto settore è il settore dei figli della creatività quindi passioni creative chiunque di voi sia un artista abbia delle passioni creative crei faccia delle produzioni anche artigianali cinematografiche musicali qualsiasi qualsiasi sia la produzione qualsiasi sia la cosa che voi lasciate in memoria agli altri dopo il vostro passaggio quindi a partire dai figli a tutta la vostra creatività e passando per i nuovi amori qui qui c'è una svolta per tutte le persone che non svolgersero un lavoro creativo non decidessero di diventare genitori perché c'è chi vivendo l'attrito tra sole e tra prima e settima casa tra io e noi per risolvere una crisi sentimentale può decidere no di fare un passo impegnativo come quello di diventare genitori c'è chi non vedendosi rinnovare il contratto visto che Marte in settima può decidere di dedicarsi ad una passione creativa c'è chi vede forse finire una storia sentimentale quindi si dedica ad un nuovo amore o forse il nuovo amore fa finire la storia sentimentale chi lo sa raccontatemelo voi se tutte queste cose non dovessero accadere l'altra competenza l'altra simbologia della quinta casa è quella del divertimento quindi cosa salverà gli acquario dal transito dai casini da insomma dalle tensioni che Marte e Leone presenterà a partire dall'11 giugno il divertimento il divertimento lo svago il tempo libero il cazzeggio ragazzi il divertimento quindi insomma fatemelo sapere l'acquario effettivamente a volte non disdegna anzi perché dire a volte l'acquario spesso è dedito al no fa un grande uso del suo tempo libero ecco mettiamola così insomma ci sono degli acquario solitamente che hanno degli estremi o c'è quello che non riesce non si permette mai di concedersi nulla che si nega quella libertà totale forse perché ha paura di perdere il controllo e ci sono gli acquario che insomma del cazzeggio fanno uno stile di vita chi siete voi raccontatemelo nei commenti raccontatemelo su Instagram fatto sta che uno di questi quattro settori registrerà una grande svolta dal 10 giugno quindi dal giorno della luna nuova e l'11 giugno con l'uscita di Marte dal cancro e l'ingresso di Marte nel leone le novità portate dalla luna nuova cominceranno a mettere in discussione o rapporti interpersonali o relazioni o contratti o ragazzi potrebbero non lo so farvi agire per vie legali o potreste divertirvi in una maniera talmente scomposta quindi occhio ma ne dubito sinceramente perché i transiti sono troppo buoni da farvi non lo so ricevere un monito una sanzione quindi prestate attenzione alle regole questo è il late motive della settimana prestate attenzione alle regole non non siate eccessivamente disordinati e non siate neanche eccessivamente dominanti con Marte nel settimo settore potrebbe capitarvi di essere un po' troppo comandini nei confronti degli altri state attenti perché c'è Saturno in acquare sul vostro sole che vi chiede morigeratezza vi chiede di non eccedere e quindi qualsiasi come dire intemperanza arroganza qualsiasi uscita che appartiene al vostro lato ombra in leone quindi qualsiasi ruggito qualsiasi tirannia nei confronti degli altri qualunque in posizione gratuita potrebbe farvi perdere una posizione dei punti potrebbe allontanarvi da qualcuno e quindi siate siate morigerati siate equilibrati e morigerati non eccedete nel dominio e non eccedete insomma nella foga e molte cose potrebbero potrebbero andare a posto poi insomma le settimane successive saranno saranno molto interessanti ok però vediamo questa luna nuova che cosa vi porta fatemelo sapere nei commenti sono molto molto curiosa saluto i miei amici acquario con siate morigerati non esagerate con con le intemperanze e passiamo al segno dei pesci dell'ascendente pesci che come dire insomma questa settimana sono ancora tra i favoriti tra i favoritissimi perché hanno giove qui parliamo dei nati in febbraio e di tutte le persone che hanno l'ascendente nei primi dieci gradi dei pesci quindi c'è giove che ogni dodici anni ritorna in questa posizione quindi momento di grande raccolta di grande emititura di tutto quello che avete seminato in questi anni e anche momento di chiusura di cicli si chiude qualche ciclo altri ripartono in maniera naturale perché c'è ancora energia altri vedono un coronamento e alcuni invece arrivano nel capolinea e insomma ci si ci si disperde perché perché l'energia era finita quella fase di vita era finita quindi pesce ascendente pesci delle prima delle prima decade stanno vivendo un momento molto particolare molto magico e forse sono vicini a toccare con le mani il loro sogno Marte nelle scorse settimane ha fornito un trigono dal segno del cancro quindi ha dato anche forza aiuti costruttività adesso ci sta pensando venere quindi godete di un momento magico anche dal punto di vista sentimentale nuove conoscenze nuovi amori amori che ritornano figli insomma state probabilmente lavorando o vivendo l'esperienza di diventare genitori quindi grande grandissimo momento per i pesci per i pesci di febbraio dei primi dieci gradi dell'ascendente in pesci con un passo indietro perché perché la luna nuova si forma nel vostro quarto settore la luna nuova in gemelli mercurio in gemelli sole in gemelli nodo nord retrogrado anche mercurio in retrogrado nel vostro quarto settore nonostante voi viviate delle atmosfere deliziose e sentimentali con i figli o con degli amori il settore immobiliare o familiare sta registrando delle tensioni con la luna nuova del dieci ci saranno delle novità ci sarà un un nuovo trend non lo so ragazzi ci sarà una notizia qualcuno che ritorna arrivano notizie arrivano esiti dei figli che partono perché con mercurio retrogrado potrebbe esserci qualcuno che da tempo sognava di andare via figli che tornano c'è qualcosa che forse stavate aspettando da tempo che forse era nell'aria può non essere e che sta arrivando può non trattarsi di movimenti di persone ma può trattarsi anche di compravendite case in affitto vendite acquisti insomma è un momento una nuova porta un movimento negli immobili e nelle questioni nelle questioni familiari se non dovesse riguardare anche gli immobili oltre a non riguardare i familiari se siete lontani potrebbe indicare qualcosa che notizie novità che accadono nel paese d'origine qualcosa qualcosa di nuovo che accade nel paese d'origine però il transito è tutto sommato positivo può portare delle novità anche lavorative dei miglioramenti del trantran quotidiano o al lavoro e quindi insomma anche per voi questa luna nuova anche se vi distrae un attimo e raffredda un attimo le atmosfere sentimentali è molto positiva perché funge da punto di talete quindi si mette in mezzo ad una dissonanza abbastanza scomoda che è quella tra saturno in acquario che voi avete nel dodicesimo settore quindi avete l'inconscio un po' pesante state crescendo molto probabilmente state maturando non so se state riguardando tutti i vostri errori o se qualcuno ve li sta facendo guardare uno ad uno non siete il ritratto della serenità avete come dei pesi psicologici c'è qualcosa anche di di retaggio familiare forse state facendo i conti con l'educazione ricevuta con le figure dei genitori anche per chi non le ha più quindi con le loro memorie con quello che vi hanno lasciato con un imprinting insomma state facendo un lavoro molto introspettivo molto anche molto pesante chi non è aiutato sicuramente sta soffrendo perché è un momento molto impegnativo e questa introspezione come dire continua e probabilmente aumenta soprattutto dopo la luna nuova nel settore famiglia perché riporta a galla o delle questioni magari del 2002 magari del 71 degli anni diciamo dei primi anni 70 quindi dal 71 al 73 o anche prima tempo di guerra dalla fine del 42 se non sbaglio all'inizio del 45 o ritornano delle questioni familiari legate a quell'anni o succede comunque una svolta o un qualcosa che si ricollega a questo lavoro interiore di introspezione a questo rapporto con i genitori alle memorie con i genitori che state già compiendo quindi momento introspettivo momento introspettivo e però però soprattutto per i nati in febbraio con l'ascendente ai primi gradi dei pesci quel giove vi preserva vi aiuta vi fa avere le giuste illuminazioni soprattutto adesso col trigono con venere quindi siete protetti dalla fortuna e dall'amore che è la cosa più interessante fatemi sapere nei commenti che cosa sta accadendo sono molto molto curiosa vi aspetto anche su instagram e insomma vi aspetto aspetto queste novità quindi siamo arrivati alla fine dell'oroscopo io spero di aver colto insomma il trend di quello che quello che è il succo il senso di questa settimana vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta vi ringrazio tantissimo perché il numero delle persone che mi seguono è diventato esponenziale sta crescendo in maniera esponenziale vi ringrazio tanto vi aspetto e vi aspetto nei commenti vi aspetto sui social se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per essere informati su tutti i nuovi video che sulle nuove uscite sulle prossime nuove uscite grazie ancora e buona settimana a tutti ciao alla prossima grazie a tutti